Difensore anche lui, qualche anno fa, lui ha solo sfiorato la Coppa Campione, finalista nel 1987, è il migliore mai con, profilato una volata mai con Lucio da Foto Valdorighetti. Sì, è un grande difensore, ma Maicon offre qualcosa in più. C'è anche come è cambiata la mafologia dei giocatori nel giro di una ventina d'anni, quarta preme al confronto di Maicon, insomma, c'è una certa difensore. No, non c'è vero che entrare in una struttura europea.